Nella buona e nella cattiva sorte ci si promette prima di pronunciare il fatti di così. Così una coppia di anziani di Foggia ha chiesto di stare insieme in una stanza di ospedale. Non voglio stare da sola durante il ricovero e la richiesta che una donna ha fatto al nosocomio la staria di Lucera, dove doveva essere ricoverata. E così l'ospedale ha permesso ai due coniugi foggiani di stare insieme nella stessa camera dopo il ricovero di entrambi, perché tutti e due malati. Lei 84 anni e il marito 91. I due anziani sono stati sistemati in una stanza interna alla struttura ospedaliera, ma più decentrata. E visto il legame di consanguinità dei due pazienti non c'è stato alcun problema con le norme di sicurezza sanitaria. Sono una di fronte all'altro, così da potersi accudire anche con lo sguardo. E quando lei è stata sistemata nel letto, lui le è stato vicino a mano nella mano, scambiandosi qualche parola di conforto. I due non hanno figli, solo nipoti, e quindi non volevano essere divisi per il tempo della permanenza di lei alla staria. Così il direttore della struttura complessa di medicina riabilitativa del plesso alla staria, Massimo Zanasi, ha preso la sua decisione. Un ospedale che cura solo le ferite del corpo diventa riduttivo, racconta il medico. Loro sono il simbolo di un legame supremo e mai avrei permesso a una struttura ospedaliera dedicata a curare i pazienti di diventare l'unico muro a questo legame. Mi è sembrato doveroso che questo momento, anche duro, non sia regolato da freddi parametri medici. Il nostro dipartimento ha una vocazione geriatrica, ha concluso Zanasi, ma oltre alla malattia si pensa alla vita non solo sanitaria dei pazienti. L'umanizzazione delle cure non può solo essere dichiarata, ma perseguita, e noi proviamo a farlo.